Buongiorno, mi ha molto colpito la campagna di legittimazione che è arrivata anche fino ai giornali italiani di Bolsonero. Bolsonero è il candidato brasiliano alle elezioni presidenziali, candidato della destra conservatrice. Di Bolsonero c'è stato detto che è l'uomo nero, cioè che è un populista, un demagogo, un killer della democrazia. Gli si rinfaccia un discorso di molti anni fa in cui Bolsonero disse che la giunta militare che aveva retto il Brasile per anni era migliore dell'attuale democrazia e insomma Bolsonero è cattivo. Ma vediamo un po' come va nel resto del mondo, perché Donald Trump è cattivo, chi ha votato a favore della Brexit è cattivo, chi ha votato Le Pen in Francia è cattivo, chi ha votato Orbán è cattivo, chi ha votato Salvini è cattivo, gli austriaci e i polacchi che hanno votato a destra sono cattivi, una parte degli svedesi è cattiva, Putin è il capo dei cattivi. Ora naturalmente in questo gruppo che abbiamo visto ci saranno senz'altro dei cattivi, risulta però un po' difficile credere che lo siano tutti quanti. In realtà noi vediamo in questi anni delle campagne di legittimazione del candidato vincente, solo nel caso che sia di destra, che si ripetono uguali un po' dappertutto, per cui il candidato della destra vince, si dice che è un populista, un irresponsabile, è uno xenofobo, uno razzista, chi più ne ha più ne metta e si cerca di far cadere il governo per sostituirlo con un governo tecnico, oppure si propone di rivotare come nel caso della Brexit, cosa che poi non avvenne, e poi c'è un partito in crescita anche in Italia, partito tra virgolette, che è il partito degli intellettuali che invece preferirebbero proprio abolire il voto, il suffragio universale secondo loro è stato dannoso e di conseguenza le nostre società dovrebbero essere governate da tecnici e non da politici eletti. C'è una forte contraddizione nel trattamento che viene riservato invece ai leader della sinistra, prendiamo Macron, Macron fa dei discorsi in odore di nazionalismo molto spesso, la Francia è sempre il caso eccezionale, e poi dal punto di vista della politica dell'immigrazione, dopo aver definito la nostra vomitevole, abbiamo scoperto che la sua era ancora più cattiva e spregiudicata, non solo ha chiuso i porti, ma la polizia francese al confine con l'Italia raccoglie gli immigrati in Francia e li trasporta in Italia, abbandonandoli nei boschi e ovviamente passando il confine senza avvertire nessuno. Capite che è una cosa piuttosto grave. La caccia all'uomo nero prosegue, adesso vedremo chi sarà il prossimo, un'ultimissima osservazione relativa alla sinistra che sposa sempre questo tipo di campagne, ma ad esempio per venire alla sinistra italiana, la sinistra italiana negli ultimi mesi sa parlare solo di se stessa, cioè delle proprie scissioni che non interessano a nessuno, tra un po' ci saranno poi più scissioni che elettori, oppure di diritti, benissimo sosteniamo i diritti, alcuni sono sacrosanti, però la sinistra si è dimenticata di parlare delle due cose che interessano i cittadini in questo momento. La prima è l'immigrazione, la seconda è il nostro rapporto con l'Unione Europea. Fino a quando la sinistra non tornerà in sé, la destra degli uomini neri continuerà a vincere.